Salvatore Sebergandio presenta Cinema Estravaganza One hour after midnight Una storia di solitudine La ricerca dell'amore in un mondo di omicidi Perso in una cerchia di estrani Ingannato dalla maschera del sesso Vestito a modo per un appuntamento Con la morte L'orologio scorre più veloce dopo la mezzanotte Girato nella Valle di San Fernando con tecnologia U-Matic Video